Atomic Redster G9R è uno shipper curve veloci con tecnologia omologata da gara con un raggio di 18,4 metri e 68 millimetri al centro nella lunghezza di 177 centimetri. La costruzione Ultra Power World Core è Ultra Titanium Powered. La nuova piastra Servotec pre stressata e l'elastometro sulla superficie in grado di supportare il comportamento in curva a qualsiasi velocità rende la virata più agile nelle curve a bassa velocità e più stabile in quelle più veloci. Gli sci hanno un profilo camber. Atomic G9R 177 è uno sci tranquillo, non ho dovuto spingere troppo per far sì che lo sci tenesse, anzi molto facile a quel punto di vista, stabile. È bello sia fare curve molto grandi sia fare un arco corto. Uno sci per andare veloci, per andare veloci ma allo stesso tempo carvare quanto si vuole. Uno sci che ti supporta sempre tutte le velocità, divertente in conduzione, ovviamente il raggio 18,5 non ti permette di fare curve a bassa velocità in conduzione, però diventa un bello sci sull'arco corto. Uno sci comunque ben strutturato e bello pesante quindi che dà sicurezza mentre fai le curve. Un'uscita gigante ha tutti gli effetti, con una struttura molto rigida che gli regala grande stabilità. Nelle curve da gigante è perfetto. Quando vuoi affrontare magari degli archi di curva come un arco medio o una roba del genere ti mette sotto stress il fisico, fai molta fatica a stargli sopra, non usci molto faticoso. Un gigante di razza, sicuramente su questa neve che ci ha mento armato vero, mantiene le sue caratteristiche di grande precisione, ottima velocità, una bella inversione degli spigoli, necessita sicuramente di un buon piede e di una buona tecnica. È uno sci veramente da gigante, è uno sci a cui devi dare del lei, devi stare ben piantato sui piedi, posizione, la conduzione. È uno sci da ragionare, nel senso che va molto veloce, tende ad andare dritto quindi si deve lavorare nell'inversione, ci devi stare su per deformarlo bene, è una piastra molto rigida, molto dura e quindi resiste bene alle sollecitazioni, è molto stabile e per tutto quello che ho detto quindi lo consiglio a un atleta quasi, a un turista evoluto, molto prestante fisicamente ma soprattutto che sa sciare bene.